Rosa Cazzese ma tu con che criterio ti permetti di giudicare uno che pubblica le foto della madre? Putrefatta e morente quando tu sei la prima che non sa cosa cazzo serva Facebook e lo usi solo per ammusciare i coglioni della gente con le tue fotine idiote e i fiori e le tue foto alla tua faccia di cazzo e le tue fotine del cazzo col tuo fidanzato e spero che ti estingua presto perché sei un dito nel culo per la società